Un autista ASF ha inseguito tutti i passeggeri a bordo dell'autobus che stava guidando. Da ciò che è stato improvvisamente imparato il dipendente ASF, che era a bordo dell'autobus è iniziato da Sagnino poco dopo le 8.30. Ha iniziato a urlare contro i passeggeri, tra cui diversi pensionati. Quindi si è fermato. Ha aperto le porte e ha costretto tutti a scendere. Nonostante le proteste dei passeggeri. Chi ha sfidato il telefono cellulare e immortalizzava la scena. A presentare una protesta formale o l'ASF. Nel video senti il conducente rispondere ai passeggeri in tono e trasformare male a pensionato che. Ha chiesto un account e la ragione del suo comportamento. Per quanto riguarda passeggero del profilo. Di Instagram Pride Como. Il conducente aveva comunicato alla partenza da Sagnino U avrebbe fatto scendere tutti al quartier. generale dell'ACI. Per fornire la sua versione dei fatti e lo stesso l'autista avevo un problema tecnico che non mi. Avrebbe permesso di finire la gara. Arrivato a Sagnino. Non avrei dovuto caricare nessuno e procedere fuori servizio. Ma da quando ero un anche il passeggero. Mi sono messo nel ruolo di coloro che hanno aspettato un autobus che. Tuttavia. A causa del traffico. Avevano raccolto mezz'ora di ritardo. Quindi ho accettato di allevare i passeggeri. Ma ho detto loro che li avrei portati solo. Ola ci fermati a causa di un problema tecnico. Alla quarta fermata. Dopo che tutti i passeggeri informato di questa cosa ho iniziato a protestarlo e portarla con me. Anche in modo negativo. Quindi deciso di far emergere tutti. Come nel mio pieno diritto.